Perché la situazione di degrado e fessurativa di alcune sue membrature lasciava presupporre dal punto di vista tecnico una sua non portanza a qualsiasi tipo di traffico. Stop alla circolazione nel ponte che si trova a Castroncello Broglio lungo la strada provinciale 27 nel comune di Foiano della Chiana per motivi di sicurezza. Una piccola scossa sismica anche di divissima entità o qualsiasi altro agente esterno poteva creare, stabilizzare l'equilibrio che ora la struttura ha trovato nel suo equilibrio però nessuno ci garantiva che questo equilibrio venga mantenuto. E quindi su questo fatto la decisione appunto proprio per tutelare la pubblica incolumità e tutelare insomma anche il bene stesso è quello di chiudere il ponte. Capiamo che questo ha creato sicuramente dei disagi e proprio per questo cerchiamo di lavorare proprio per risolvere questi disagi almeno in parte. Il ponte dovrà essere sottoposto ad interventi di manutenzione ma i tempi sono lunghi e soprattutto i soldi non ci sono. Questo saccheggio fatto nelle casse delle province sta procurando dei guai enormi al sistema aviario e alle nostre scuole. Noi lo andiamo dicendo da tempo e siamo fortemente preoccupati anche perché ne va di mezzo una manutenzione ordinaria, lasciamo perdere la straordinaria ma l'ordinaria che va fatta perché se no rischiano i cittadini e rischiamo tutti.